allora oggi facciamo dei cioccolatini alla menta ho preparato un cono di cioccolato pieno di cioccolato fondente e poi ho preparato una siringa da 20 così di menta menta e moltiplicato per due la menta lo zucchero al velo quindi adesso con le formine metto il cioccolato nelle formine la mia formina è di 4 centimetri di diametro ora in questa formina che ho fatto prendo la la siringa da 20 centralmente lamenta solo centrale lasciando il bordo di cioccolato fatto un primo ma si vede troppo male però comunque ho fatto un primo giro adesso faccio e riempio tutto il giro interno ecco viene una cosa del genere ok poi sopra io adesso ci metto il cioccolato allora bisogna mettere circa una tacca di questa di una siringa da 20 si sono ricoperti tutti i cioccolatini si fa un po' così un po' così si scuote e in questo modo la superficie si appiattisce poi adesso vado a mettere il frigo mentre attendiamo che i cioccolatini si raffreddino prepariamo il vassoio con i pirocchini la maizia di un po' così stacco il bello la soio primo cioccolatini Grazie.